buongiorno a tutti quanti oggi per segnare un po la fine di questa estate proviamo questo set di talbot shaving che richiama un po il tramonto ecco la fine dell'estate speriamo che finiscano di far casino fuori ok come rasoio semplice italico armato di riproviamo le wilkinson sword voglia di una rasatura poco tranquilla stasera e come pennello omega roma con se sempre un figlio di pre barba una profumazione è un agrumato ma con note anche legnose diciamo anche diridi è molto buona profumazione davvero molto buona andiamo grazie 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 soprattutto gli after shave però si sa mai che magari capita l'occasione allora almeno sappiamo se vuole alla pena o no provarlo con tutte ste dovane ultimamente non vale più tanto la pena acquistare all'estero anzi per niente però magari qualcuno che lo cede lo trovate da qualche parte questo pennello per me è una garanzia veramente mi ha anche soppiantato un po nonostante siano molto simili ma secondo me è un pochettino superiore anche a trafalgar mi avevano parlato bene di tango cieli profumazione molto molto buona davvero ok questa è la mente qua non si può dire che fanno schifo perché comunque hanno una certa dolcezza in viso però fanno davvero fatica danno tanta dolcezza tanta scorrevolezza ma poco taglio adatte sì ma per rasature proprio leggera diciamo diciamo con tropello con tropello ottima scorrevolezza ottima emollienza del pelo ok andiamo con i ritocchi per adesso gran sbarbata questo non è un redpoint ma è un brufoletto che sono due o tre giorni che continua a uscirmi continua a schiacciarlo poi mi riesce lo schiaccio mi riesce insomma la tortura ok 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 Grazie a tutti. 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 Ok, bene ragazzi, sapete che se vi capita tilebot shaving fateci un pensiero perché è veramente fantastico. Bene, vi saluto, ci vediamo alla prossima e buona sbarbata a tutti. Bye bye.